ok eccoci qua oggi ti sento particolarmente basso che è successo? no 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 era un problema che hai fatto hai avviato? ah andiamo bene vabbè capito già la storia già ho capito lei che soffre per l'avventamento dei genitori si inventa una storia per compensare è chiaro è chiaro ma un po' banale quella chi è Marta Martina e quello so io ah io devo scegli chi so Marta Martina? io so Marta Martina vuoi fare la serie zi? eh va bene facciamo la serie faccio la serie faccio la serie eh Rosso senti nella vita può capitare se infatti ah ti devo dire una cosa chiamati il padre di Valerio eh e tu le molestate non può passare uno wax e non potranno andare a lavorare da domani quindi dovrei andarci tu ok quindi dovrei fare tutto, ok ti dovrei fare la quarta tosta va bene no cosa abbiamo fatto abbiamo fatto pur di non farlo vedi questa che c'ha perché qui è scato è fatto di carta è fatto di cartone e mica sei contro la gravità non si può fare quella cosa devo nascondermi sta arrivando lì tu ridi proprio così ci dobbiamo nascondermi ti prego dio convincili a farsi fare il vaccino ti prego e vabbè ma lei immagina tutto ma questo è chiaro ma no no non immagina prendo la vita c'è il vaccino non so se questa reazione ecco me hai messo l'ho fatto la vita si è uguale ma sta che dormite ma sta che bo scureggia oh marco dio che cazzo è oh marco dio che cazzo è mi ha detto mi ha detto ieri sera ma quello è il vaccino ti vuoi non ti è rosicato ma che ti ho dovuto ammazzare io su tu ma è rosicato mi sei rimasto male forse è la Bibbia dei Novak ah è il dottor Hakimi eccolo esperto di fake news il vaccino mi sembra di 5G è stato creato dai retti bianchi vabbè questa è la trasposizione dei genitori no è chiaro è chiaro no pur di non farti il vaccino ti sei suicidata a me vabbè vuole mo'venzio tipo li manti pure le tuoi storie si l'ho detto da loro non c'è niente il gioco al sistema vostro relazione, fatevi il bacino insieme finisce se li mettono insieme però potrebbe anche finire così che non si mettono insieme la morale è che nonostante si siano lasciati vogliono comunque bene la vita allora io sto a sinistra no mo devo editare tutto con scritto Samo e Perna adesso a sinistra essenziale beh si allora c'è il doppio salto non si può disattivare questa schermata a me no non si può disattivare si sennò è in feature gameplay ah è obbligato come way out ok allora con x file dash ok ok vabbè no ti sei morto ma che si ma perchè devi andare all'altra parte ci sono intanto vabbè andiamo ma non c'è un indicatore Ah maio il sindicatore. Ah, il caldo. Cosa c'è? Glorami, cosa sta succedendo? Tu vuole il fusibile? Live! Non lo sape. Eh? Noi che stanno a miss alberi. Ah, aspetta. Mi stai a far perdere i filmati. No, stai anziato. No, non c'è stai, hanno visto gli alberi. Vabbè no, andiamo. Cosa c'è stata la selezione dei capitoli? C'è stata la selezione dei capitoli. Ma... Che doveva fare? Dobbiamo riportare i fusibili dove stavano. E' mo' quell'altro dove c'è stato? Ah, è stato sopra. Ma come vedi qua? Vedi qua? Qui si muove. Una cazzata. Andiamo. Avevo detto che non gira niente qua. Come fai a fare il dash sotto? X. Cerchio. Come ci arriviamo là sopra? Ah, così. Come? Come ho fatto? Il doppio X. Il doppio X. Oh, questo scappa, se vuoi vedere la mignotta. Ah, beh, questa è l'introduzione alle meccaniche di gameplay già viste in altri 860 giochi. Ehm. Dove è il doppio salto? Ma ciò te lo dico, no? Non ciò te li fa bene. Che so. Vedi qua, mortaggi. Ma ci dura. Oh. High voltage. Attento. Ehm. 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 Forse un giù di Naruto. Ehm. Ehm. Ah, ho insieme del cavallo qua, eh? La fondata di Naruto animate male. Quella contro pain. Ah. Oh, vai. Quanto scivola? Quanto scivola? Ah, vedi? Scivola. Sei grapposo tu? Vabbè, anzi. Quando cazzo va? No. Eh, sto morto. Sto rimorto. Solo quando è giallo. Easy. Oh. Ma che cosa? Salta, doppio salto e scatta. No. Easy, boh. Salto e premi il quadrato. Il scivola, guardate lì. Basta usare la testa e muoversi bene. Ah. Vuoi chiamare il suo video? Fai la testa e muoversi bene. E ritolto. Parte 2. Ah, ma questo... Quelli arti 2 stavano buoni, ma questo scappa. Guarda questa, l'ha preso. L'ho preso. Fa qualcosa. Eh, rompila. Dobbiamo rompere. Ah, no, aspetta. Ecco. Che hai fatto? Ma non lo ranno. Uh, che ritrovo. E ce l'hai attivata tu la voce? Eh? Ce l'hai attivata tu la voce? Si, penso che sia aspetta. Una roba di alto livello, fratelli. Sì. 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 Ma quello è cattivo, quello è bastione. Ah, dici quello è, eh? Un bel po' del pezzo. Ma la tua storia. Nonno. No. Ma... Ma che va, me vieni da? Ma non. Nonno. Ma nonno. Ma nonno. Ma i fai mai. Ma nonno. Ma sta andando a lei. Ma prima, che qualcuno che voglio chiedere. Cheshe, 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 cheshe. Cosa è cosa è? Ma che va? Ma che saspira polvere? Sto zitto Uhhh ma ce l'ho mandata con me Nooo Oh demonio quel libro Perché demonio è satanico Oh porco dici Buono, sai che buon odore Questa è tutta la carne che mi avete fatto ingerire io sono vegano Perché c'è una fila nuovissima qui Sto bruciando Sto rinunciando E tu mi permetti di rinunciare Mi rinunciare Inoltre, mi metteremo la vita di qui Ahhhhh 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 Ah, che ragazzi Ma siamo venuti dentro, ma va bene Questa è una citazione da balena di Pinocchio Eh si Sì E' stato forte, amore mio. Dormiamo insieme. Vabbè, ma fai il demoniaco per aiutare il mondo. Oh. Sì, questi sono due ritardati. Io non voglio impersonificare questi due ritardati. Ma c'era una sigaretta, dai cazzo, non frega a me. Io mi avveleno i polmoni. Dai cazzo. Ma chi è questo? Ah sì, ci sono degli esseri strani. Bagarozzi. Bagarozzi metallici, guarda, guarda, eccolo. Andiamo. Ma moriamo? Eh, vabbè. È voluto prof. Ma che è petrolio questo? Attento, eh. Questo è da spire. No, sì. No, non puoi... No, non li è andata dentro, cazzo. No, vedi? Senti che sto. Mannaggia, la troia. Dirissa verso di me. No, no, vai, entra nel tubo. Nel tubo, ah. Easy. Olle. Non c'è niente. Vai, ma ti ho attivato quest'altro? No. Bravo. Mi chiedi che eri forte. Oh, ma non sale, zi. Non sale. Forte. Ecco. Easy, boy. Easy. Vai, entra dentro l'aspiravolvere appena arrivi, eh. Capito, sì, non è fabile. No. No, io ho pure inizio, proprio per là. Vai. Vali. Che mo? Non so qua. Ah. Dove siamo in questo momento? Siamo nella soffitta? Ah, è un po' divertente, in realtà. Guardi, guardi, ti faccio passare. Succede? Ah, ok. Come pensavo, come pensavo? Eh, capirai. Cioè, dovevo andare io, diciamo. Eh, come puoi far arrivare a... Eh, come faccio, zi? Eh, aspetta, fammi pensare. Un mondo, qualcosa. Che è? Un rom. Ma che ti faccio provare a te? Aspetta. Che sto ritardato? Che c'è niente qua? Oh, si è bloccata una ventola. Ma, è questo? Eh, lascia vedere, tu non hai capito niente. Vai. No, 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 devi attivare io, vado tu. Vai, all'altro, 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 all'altro. Devi andare a quell'altro, tu, tu. Eh, lo so. No, no, solo... No, quello devi andare tu qua, e poi io vado là. No, come abbiamo fatto va bene, sì. No, secondo me fai prima di andare tu là. Che devo fare io? Oh, devi appena passare qua, vai a quell'altro, io vado al colore. No, 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 non posso. Che mi cerchiamo qualche secondo che rimane... Grande. Che se vuoi? Non so, stai con ce la sai che non posso fidare di te. Oh. Tiè. E' altro che Yoshi Island. Non ti dici che da Scrapol vesti tu. Oh. Oh. Non ti dici che da Scrapol vesti tu. Easy. Easy boy. Semplice, facile. Ah, no, fai. Fresco. Bello fresco, gustoso. Succoso. Che è? Dirò. Mi devo andare all'attaccare. Allora, start spinning! Direi a gira. Tu sei l'uomo. Ok. No, ti arrivo all'azienda. Dove tu arrivi? Ah, non lo. Certo, fratelli. Attivo questo. Vai, va. Come ti attacchi? Niente, start qui sopra. Cioè, start qui sopra. Sì. E' certo, è chiaro, fratelli. Ma da bevi. Dio, che che è? Tipo una tromba. No. No, è qua. Eh, vai. Cioè, te lo devo cambiare ogni po'. No, però di soltanto. Guarda, te io questo. Oh, funziona. Ok, easy boy. Però è il tempo di smoglio giù. Oh, l'anima. Paura. Paura, eh. No, no. Di forza, non è il tempo apposta. Eh, non lo potrò. Bravo. Complimenti. Bravo. Easy boy. Ma queste che sono? Ah, queste sono le scuole bollevee. Ma stiamo proprio dentro la... L'aspirapolvere qui, eh. Dici. Eh, sì, non vedi? Ci sono i chip. I chip. Vai, va. Vai dentro, vai dentro. Vai dentro. Proba a d'arto livello. Guarda lui. Ma... Ok, mi vento io. Ah, cosa fa? Cioè, non trovo che io, tì. Ah, è mosso primo livello. Lo stiamo facendo senza... In blind round. Blind round. Poi vediamo qualche trofeo. Eh? Non si apre, vedi? Cosa è che so? Sono quegli esseri. Quali esseri? Ih! È un po' di apriamo la luce. L'ho spenta? Ha cambiato qualcosa? No. Non. Oh, non. Non. no ah si ah no ne hai capito come funziona hai capito come funzionano questi giochi cooperativi ah guardate le trovate cose vai vai eh aspetta e che faccio io mi sono avvio scusa ecco no secondo me guarda un po' se puoi entrare dentro qualche aspirapolvere qua forse no dove cazzo sta andando sto vedendo vediamo un po' ma che è qualcosa là sotto guarda la mia guarda sotto c'è un essere sono tipo degli acari ah ecco guarda vai sotto guarda la mia visuale no 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 non ho punto capito di punto il vento contro quello cerchio là a sinistra a sinistra vai 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 aspetta vai vai easy boy easy boy ok ok e mi devi far salire riettire 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 riettivo poi vai poi adesso si un attimo che si vede io non lo sia un genio guarda guarda l'attivo qua ma non ci possa ma mo ti attivo quel coda no ma al contrario hai capito come funziona ma fai dall'altra parte ed ecco come vieni qua chi ha chi ha ah si che succeda se fa si noi ci siamo riuniti aspetta non c'ho la palla vai un'altra 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 oh no c'ha fatto ma non mi faccio le palla devi lanciare e che ne so come hai fatto beh ho capito ah no no dove cazzo vai ah no devo indirizzare io l'aspirapolvere ecco vada 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 ma zi ma zi ma zi ma zi non è facile eh eh però mozarta mo c'ha vai ma zi non servono più e mi non come c'è il troffio eh 100.000 imb se si sbagliare nemmeno una ma eccolo eccolo la carne nooo no il vaccino funziona il vaccino funziona è bravo è giusto non ascoltate il vaccino funziona allora perchè non è perchè con l'ottanta per cento e passa di vaccinati dobbiamo richiudere tutto questo cosa ho già messo sul cazzo? che? vabbè torello dai c'è la bello c'è la bacia ai pupi non è che puoi fare la bacia ai pupi proviamo aspira torre uno? ah vedi di aspiro ah guarda qui non è dove non è aspetti qua la grande è concentrica vado a dire che metti in giro lui in te fa un cazzo vai sopra vai sopra sto sopra vai vai dove devo mirare la testa? ok easy boy easy boy no no si ma ma si sei morito? che devo fare quando sei morito? no niente non devi morire mi sa che sei morito per qui vai sopra no i microccippi che mettono nel vaccino no mi dovete iniettare questo ehh ehh che ha le mine? no e che mi avrei preso ma io se li dai un sottico più mai si iniziano sotto compagno i meteoriti gli asteroidi occhio alle ombre tramite le ombre puoi vedere dove arriva l'ultimo coppato ma qual è l'ultimo coppato di duorto però ora vabbè guarda quanti sono ora vai oh toccano 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 vai vai si auto aspira ah toccano gli occhi no zi ma è gorro madonna oh che la devo trovare eh ditemelo però nooo è un horror no zi che cattiva eri non è stato bello quello ah ci sai ma perchè che ho fatto a te sono sempre lette cazzo ma scopassano una roppetta di coglioni ma questo è il capo stipido di tutti i giochi tipo recente clank jack solo il capo stipido è carino molto carino si 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 piace piatto i tumori vabbè dai qua ah vedi ma cosa c'è sta bambina ci affrengono sulla piomba 가지고 eh 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 eh! no 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 no! io を ma chi' e questo?ell' martello! mh Noll'a era una martellata giudicola di notte è vero questa questa è un po' la storia dei toy story vedi cosa abbandonate hai capito che volevo dire eh certo oh quel chiodo vola e va a testa la ragazzina morta ho finito il gioco che è torro come a po' qui ti po' canac come a po' canac 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 knc knc ah vedi dove le martellate e si tralate do te oh ma mi hai ammazzato no non ti ho ammazzato io ti come come ma io sono in charge del nail ok? e che dobbiamo fare? dobbiamo buttarci tutto ma buttati tutto lo rombi qua cioè è proprio il giugno no no tocca disorgere tutti rombi tutti gli oggetti ragazzi è qua ma io prima che tu che? oh ma sei matto come funziona quel chiodo? come funziona il tuo chiodo? il notice ma prima che è successo? scusate ah vedi? quindi ah non scapeva andaiuto eh va va eh ah no devo mettere il chiodo ma si mi mette il chiodo la vita vai? oh oh bravo oh oh lo puoi mettere da là e vado un padre coglioni vado no pieto vai oh oh ok no 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 calma calma no easy boy ah si che si è fatto? tu si ci va bene c'è il chiodo qua da fronte a me dove? easy easy no rilancio no ah 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 ho preso il chiodo qui c'hai due chiodi eh non lo so non lo so la fai? ma al momento che posso fare? ah vedi? tu puoi vedere qualcosa si io alzo riesci a vedere la vera visuale? riesci a bloccare? ma questo no? c'è questo c'è questo guarda un po' la tua testa no ok no guarda un po' se questo qui riesci a bloccarlo si questo qui dovresti riuscire a bloccarlo ma questo lo blocchi eh no va bene no non vedo ma vedo questi giochi ti spingono ad utilizzare l'intelletto ah vedi ecco qua vieni 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 che brutto easy boy ah bloccami questo bloccami pure questo easy boy che diverti boh 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 vieni a quelli non si vedono nemmeno che avere l'occhio molto allenato su questo tipo di giochi per vederli c'è l'emozione tra c'è lì c'è l'emozione tra c'è lì lo credo lo credo si perchè diciamo 3 uomini giù non mettiamo questo gioco che dicevi di quanto ci sta giù non ci ha fatto non lo vediamo non lo vediamo colpisci Cody che dov'è non lo vediamo ok non lo vediamo chi è chi è non lo vediamo non lo vediamo non lo vediamo non lo vediamo oh ma perchè non mi dò fuggire? ah non mi dò vabbè si però si ma che si vuoi ah no tida a te no non sto sapendo che c'è da qua no perché ah 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 che serve il chiodo si no se li odi non c'è vai vai non c'è il chiodo lì sulle travi sulle travi arancioni gialle quello che cazzo è lascio l'altro ecco fatto ok posso andare a fine livello no no vedi non c'è una barriera no che la barriera dico lì ma che cazzo è dai tu questi sono giochi da ragazzi per noi sicuro da qua dove va qua qua c'è sta roba ma complicatissima da qua o da là da vai tu inizio si ma da là ma che quello mincio mincio quello si sicuro vedi si sta rumore che sta rumore e si sta la tambura oddio che se sta la tambura è stagata chi lo fa e ha nato qua cosa che sarsa probabilmente no no ti ho sparato no usa ma tu questo è più difficile per tezzi no forse è più difficile per me no vabbè si ti freghi miei però eh vabbè 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 vediamo alla fine i cavalli ci vedono l'arrivo ma non li tagliate stai a partire si che si è successo una cosa tecnica vabbè 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 ma ci tanto si siamo sesi questo posto adesso dove samos giochi tipo uncharted dove va vabbè ma devi bloccare prova un po' a bloccare con gli iodi con le travi aspetta vabbè provarli io vediamo Sì, oh che cazzo, posso bloccarlo, ma c'è la troia, aspetta, bloccalo, aspetta che blocca, EZ BOI, EZ BOI, mo? lo faccio, lo faccio, l'altro oh, non è che mo beviano questi, no? eh, si, si, ce la cerchiamo da dire bevo da sotto a me è verile questo colpisce a casa si, si sta succedendo ah, c'è il terzo? guarda un po' che sto a fa' ah, ok, ok, ok ah, devo correre? si, si vabbè vabbè, vabbè vabbè volevo fatte cagare sotto, invece non ce l'ho fatta uff che muoco? guarda, c'è chiudi ecco aspetta 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 andava con l'altro? no aspetta 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 aspetta, si, se ne attivino l'altro cazzo aspetta vai ok, aspetta un attimo da quello che vuole mh? votiti quello sopra aspetta un po', non lo devo aspetta aspetta vai vabbè vabbè se lo cazzate buh ah, questa è una bottiglia da sfondare per il trofeo grazie oh, eccolo ti distruggi tutte le bottiglie nel primo livello eccolo qua grazie questa non è quella gazzetta da testi che abbiamo visto prima tu che sperai ah, se non guarda la cazzetta da testi che abbiamo visto prima ci sono tutti sti macchinari sotto e' questo e' questo questo e' il secondo boss però non li chiudi nemmeno posso usare mu? chiudi ma ma questo e' un boss un boss questo modo no, tocca a piallo si, questo e' il seguimento si e' veloce ma più è giusto oh, vieni, vieni, vieni ah, preciso eh, corcodio no, no, andate, no, andate vai, vai, vai ah, guardate Dopo tutto quello che ho fatto No No, 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 diventa su, diventa su Adesso, adesso, adesso Eh, mi ha preso Vai Vai No, 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 no Adesso mi trasformerò Eh, bumba Eh, c'è la demonia Che è? Oh, chiodi, chiodi, chiodi Chiodi, chiodi, chiodi Chiodi, 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 ma l'altro? No, cazzo Sono si ripper la faccio già faccio no sta liberato vai no è missato è missato ma devo distruggire il lucchetto maledetta animazione li distruggevo tutti e due se non c'era questa animazione un po' cambio pattern altro che dark souls che è? è boogie o? è boogie o? ok ok no No. Eh vabbè. Vai, più no. Prendiamo la giuetta. Vai. Vai la fanmuc. La fanmuc. Roba a terzo livello. Guarda quello di nuovo come una merda. Eh no. Adesso la Tomb Raider che mi... Oh, dove va? Perse... Lo spray! Oh, posso far esplodere. Uh. Uh. Mi schiaccerò come delle merda. Ciò fai a bloccarlo? No. No. Eccolo qua. No, devi bloccarlo tu. Mi bilongia a vedere. Vai. No, dove andiamo? Dietro. Ok. Ah, più di una volta. Eh, tre volte lo cavallo. Oh, ah sì. Questo sta a distruggire tutto. Guarda la sega c'è. Io sto fermo. Io sto fermo. Calma, calma. Non c'è nessun rischio. Oh, ah sì. Lo va a dire. No, no. Ehm, quello che abbiamo fatto prima. Pirano. Pirano. Dai, me lo fa. Vai a me. Non c'è nessuno. Uno. Due. Tre. Non ce la fai. Dai, a tre volte ho fatto a dire te. Oh, sembra una Troccolos. Oh, cazzo. Non è casuale il pattern dell'eliminazione del... No, di chiodi, dell'eliminazione del... No, non vuoi. Eh, vabbè. No. Vieni lì. Ma dici che se moriamo entrambi? Dici che va a ricominciare al giocamento. No, no, sì. No, easy, boi. Oh, cazzo. Sì, cazzo. No problem. Eccoci. Ma c'è il martellone potenziato, quello che... Oh, è vero, è vero. Non so se è dietro a quella precipizione del cratere di materialità. Già. Ah, andiamo, è sicuro. È sicurezza. È sicuro, è sicuro. Oh, no, non andare all'app, non andare all'app. Devo andare, mi ha chiamato di fare il mio. No, no, no. Dici che era intelligente, sto lì. Comunque, il primo episodio direi di concluderlo qui. Come ti è sembrato questo gioco? Molto carino, eh. Molto carino. Ti piace più di Way Out addirittura? Sì, sì. A me piace più Way Out, per dire la verità. Dove cazzo vai, Z? Dobbiamo concludere l'episodio. Eh, vabbè. Vabbè, bellezza, sì, scivolando su. Adesso salverò questo video e sentirò se Samu si sente bene. Probabilmente non si sentirà bene. Dovremmo cambiare qualcosa nell'audio. Ciao a tutti. Ci vediamo nel secondo episodio. Ciao, ciao. Salute a Samu. Ciao, ciao. Ciao, ciao.